Terzo giorno di protesta per gli autotrasportatori sardi, la cui mobilitazione oggi si è concentrata principalmente negli scali portuali di Cagliari e Olbia. Sull'avvertenza interviene Cia Sardegna, che nell'esprimere la propria solidarietà alle imprese e ai lavoratori del settore, sprona il governo e alla regione ad adottare immediatamente misure adeguate a sostegno del comparto, ma c'è anche preoccupazione per il destino dei prodotti agricoli e deperibili nel caso la protesta andasse avanti. Riconosciamo la difficilissima situazione del comparto dell'autotrasporto e non riteniamo sufficienti le misure di sostegno finora previste a favore del comparto dal decreto legge energia, spiegaci a Sardegna. Il settore agricolo sardo tuttavia, già pesantemente in crisi per via degli aumenti indiscriminati nel costo delle materie prime, costi energetici inclusi e delle difficoltà del settore, rischia la paralisi della movimentazione di animali e di derratti alimentari, in particolare quelle deperibili. Gravi danni per le aziende anche in termini di spreco alimentare. In pericolo anche gli approvvigionamenti di materie prime necessarie per la produzione di mangimi e per l'alimentazione degli animali, con grave rischio per il loro benessere e la loro salute, prosegue l'associazione agricola. Se le istituzioni non interverranno subito al sostegno dell'autotrasporto, il caro carburante all'origine del blocco della movimentazione dei prodotti rischia di travolgere il comparto agricolo e quello zootecnico. È necessario intervenire con misure di sostegno immediate per supportare l'autotrasporto e nel contempo garantire la movimentazione delle produzioni agricole, conclude Cia Sardegna.